Prima udienza dibattimentale stamattina al Tribunale di Pescara del processo sui tetti di spesa alle cliniche private della Regione Abruzzo relativi al 2010 che vede imputate 5 persone tra cui l'ex Presidente della Regione Gianni Chiodi e l'ex Assessore della Sanità Lanfranco Venturoni. Sono stati proprio Chiodi e Venturoni a rinunciare alla prescrizione, tanto da determinare in apertura di udienza davanti al collegio preseduto dal giudice Michela Di Fine la richiesta del PM Andrea Papalia di separare le altre posizioni relative agli imputati Giovanna Baraldi in qualità di ex subcommissario alla Sanità e ai tecnici dell'Agenzia Sanitaria Regionale Francesco Nicota e Lorenzo Venturini per i quali il prossimo 8 maggio si terrà l'udienza nella quale verrà formalizzata l'avvenuta prescrizione dei reati che, ricordiamo, vanno a vario titolo dal falso alla violenza privata all'abuso d'ufficio. Concorre le parti a condizione che resti integra la questione relativa all'ammessibilità delle prove. Definito questo passaggio, l'udienza ha preso il via con la deposizione del principale test d'accuso all'imprenditore della Sanità all'epoca di fatti il Presidente regionale AIOP e a capo del gruppo Sinergo Luigi Pirangeli il quale, su invito del pubblico ministero, ha ripercorso l'intera vicenda. È stato intanto contestualizzato il periodo storico di una regione alle prese con la ferita ancora aperta di Sanitopoli il terremoto del 2009 in un regime, peraltro, di assoluta necessità di rientro dalla situazione debitoria in cui continuava a versare la sanità in Abruzzo. Subito dopo l'operato del commissario governativo Redigolo, che aveva comunque prodotto alcune delibere dettando nuovi tetti di spesa, rimodulato le tariffe e tentato di riequilibrare le distanze tra la mobilità passiva ed attiva, a vantaggio di quest'ultima, con la carica di commissario che passa nelle mani di Gianni Chiodi e quella di subcommissario nelle mani di Giovanna Baraldi la situazione cambia. Intanto, nonostante gli accordi presi tra le cliniche private, l'assessore all'epoca, la sanità, l'Anfranco Venturoni, il quale si era impegnato a fornire nel dettaglio i dati circa le prestazioni, gli imprenditori non riescono ad accedere a queste importanti informazioni. In un contesto di totale incertezza e di una serie di altri accordi o promesse disattese, si giunge così a una sorta di out-out nell'aprile del 2010, quando i rappresentanti della sanità privata vengono costretti a firmare il contratto, rischiando, in caso contrario, non solo la sospensione dell'accreditamento, ma addirittura anche la ridistribuzione del budget alle altre cliniche. Messi alle strette, gli imprenditori firmano e dopo qualche giorno si vedono magicamente sbloccare il pagamento dei crediti fino all'ora bloccati, 13 milioni in 28 giorni. Cambiano anche, secondo quanto riferito in aula stamane, i criteri per quel che riguarda la mobilità attiva e quella passiva, con la delibera 14 del 18 febbraio 2010, nella quale si attua un drastico taglio alle attività per i pazienti provenienti di fuori regione in contrasto con quanto stabilito da Redigolo, prefigurando anomali vantaggi, specie per patologie come quelle legate ad ortopedia e chirurgia cardiovascolare ad imprenditori che operano fuori regione, in particolare Ettore San Savini del gruppo Villa Maria, con il quale, poi si è scoperto, la Baraldi aveva affattivamente collaborato. Pierangeli tornerà in aula il prossimo 31 gennaio per l'esame diretto delle parti civili e degli avvocati difensori degli imputati.